Se volete acquistare crediti in descrizione trovate FIFA 15 coi small e in più inserendo il codice common JustEase tutto minuscolo avete il 5% di crediti in più Buona prima ragazzi qui a JustEase e siamo tornati con questo nuovissimo video Siamo tornati finalmente perché per prima cosa vi volevo ringraziare innanzitutto del supporto che mi avete dato all'ultimo video Abbiamo superato i 100 mi piace cioè qualcosa di incredibile Seconda cosa appunto mi volevo scusare per questa assenza ma ho avuto problemi di connessione a casa Però i problemi sono serviti a qualcosa perché infatti adesso ho la fibra ottica E quindi sarà tutta un'altra cosa tutta un'altra qualità velocità nel caricare i video ma soprattutto le live che non lagheranno più quindi incredibile Comunque siamo qui con questo back opening diciamo per tornare per riscaldarci un po' prima dei big video che arriveranno ragazzi Ve lo dico che arriveranno i big video Questo back opening del Foot United infatti per chi non lo savesse il Foot United è un evento appunto che c'è ogni tot di tempo c'è stato anche a novembre E dà per prima cosa i doni quotidiani quindi per questo weekend voi avrete dei doni quotidiani se accedete dalla web app o dalla applicazione per il cellulare E poi soprattutto pacchetti speciali ogni giorno quest'oggi ci stanno i pacchetti oro premium maxi ossia quelli da 15.000 crediti Ben 20 pacchetti Quindi ragazzi in questi giorni ci sarà sicuramente un market crash quindi vi consiglio di comprare 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 e per poi rivendere Comunque partiamo subito con questi pacchettozzi andiamo col primo Speriamo che ci porta bene diciamo che in questi giorni ho sculato come pochi Infatti saluto anche un mio grande amico che sta rosicando come un porco perché non trova mai nulla dei pacchetti Comunque abbiamo trovato l'hazard dei poveri che è gravioso e quindi niente scartiamo tutto e andiamo con gli altri Speriamo che vadano meglio perché altrimenti non è molto buono e niente Schippiamo attenzione Torres dei poveri e poi troviamo leno Ok molto bene questi pacchetti sono partiti veramente alla grande Andiamo con il terzo sperando che vada meglio degli altri Schippare subito e mamma mia però eh Cioè qualcuno di doppioni Quanto vali? Dove giochi? Non vali nulla Musa niente 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 Ok altro pack Sperando che vada meglio dei primi io non schippo direi di godercelo tutto Attenzione credibile in forma Capella Proprio lui proprio lui non vale più nulla ma non me ne frega niente Capella se fosse stato COC ragazzi se fosse stato COC questo giocatore sarebbe stato qualcosa di illegale in 98 paesi Comunque in forma mamma mia Very 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 good Azzarde dei poveri di nuovo Bene sempre lui fratello stronzo che non si leva mai delle palle Comunque un in forma quindi ottimo bottino per ora Andiamo ancora non schippiamo nemmeno stavolta Magari due in forma di seguito Sarebbe qualcosa di illegale in 98-59 milioni paesi Eerlandez ok bene 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 gravioso Io direi di sca... Mamma mia Angland Angland è greve è greve Andiamo con un altro pacchetto io direi che questo posso anche non guardarlo Quindi mi abbasso in modo molto elegante Attenzione non guardo 3 2 1 Oh mio dio No vabbè No 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 Due argenti no Cosa? Nemmeno un giocatore oro What the fuck? Attenzione io direi che questo possiamo anche... Schipparlo adesso? Flasher trasferito non vale nulla ma lo teniamo nel club I barbo I barbo della Roma Dimmi che vale ancora qualcosa Dimmi 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 Niente vabbè lo mettiamo subito a 150 così molto easy Mamma mia Diciamo che non sta andando troppo male però si può sempre migliorare E questo è l'importante Altro pacchetto Altro in forma In questo pack Me lo sento Benzema Odozil Mamma mia Ok Rosichi Sì tanto Rosico molto Veramente tantissimo Benissimo Scartiamo tutto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Andiamo 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 Come on 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 No vabbè Cucca Quanto vali Travis Ti prego Ti prego Salvami No va bene Pensavo valessi qualcosa Maledetto Argento che non vale nulla Altro pack Direi che questo si può anche non guardare Speriamo che vada meglio di quello di prima ma Non guardiamo E preghiamo Preghiamo il dio del foot united Dai 3 2 1 Oddio Togno Togno Mamma mia che giocatore Togno Lo chiamavano Togno Mamma mia One front Diego Cappella Sempre in mezzo Diego Cappella Attenzione Io questo lo schifo Non ho paura di schifare Questo pacchetto Va bene Va bene Sì sì Sicuramente Sicuramente Solo Cappella in 11 pacchetti Sì Va benissimo Va benissimo Ah no Giusto anche i barba Allora scusa Non lo schifo questo Lo guarda Non lo schifo Dai Pele Pele No Pele Pele Bene 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 Molto 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 bene Proprio Guarda Veramente benissimo Infatti questo lo schifo Jimenez Estekelenburg Sì Sicuramente 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 Dai Dammi un altro if 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 Dai Ti prego Fabio Puentrà Fabio Puentrà Fabio Puentrà Dai Altro Pack Altro Pack Probabilmente Ve lo carico Così Senza tagli Molto Per caricarvelo Subito Proprio Tac Chiellini Tac Proprio Salto on Trasferito Not Not very Better But It Can Be Better Because Of The Shish Quindi Boom Stavo dicendo Ve lo carico Subito Così Easy Molto swag Andrei Di pre Bello Figo Attenzione Lo schifo Subito Lo schifo Va bene Oh Kuia 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 9000 Quando l'ho trovato Sto giocatore Va bene Kuia 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 Attenzione Direi che si potrebbe Non schippare Questo Si guarda Si guarda If 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 Bravo Ma perché Sempre Due Argento Che non ho Sempre No Era Man of the Match Dio Va bene Va bene Per modo di dire Questo non lo schifo Dai Tre pacchetti Di massi Come on Come on Come on Intanto vi invito Subito a lasciare Un bel mi piace Un bel Mi piace Cerchiamo di arrivare A Bains Cerchiamo di arrivare A 70 70 mi piace Sarebbero Molto 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 Appropriabili Approprio inquinabili Va bene Non so cosa ha detto Ma scartiamo Due pacchetti Attenzione I pacchetti della vita Pacchetti della verità I pacchetti della droga Attenzione Attenzione No No va bene Perché Cosa Ultimo pacchetto Oh my god Oh my god Come on Futuin United Pacchetti Bellissima grafica del mondo Incredibile Non fa il culo Futuin United Di merda Bene ragazzi Questo pacchetto Di ritorno È finito Abbiamo trovato Uniforma E qualche altro giocatore Vale Qualcosi Ma nulla di eccezionale Comunque Vi ripeto Lasciare un mi piace Arriviamo a 70 Sarebbe veramente Incredibile Questo ritorno Col botto Niente Ditemi voi Che cosa avete trovato In questa prima ondata Di pacchetti speciali Di Futuin United Noi ci vediamo A un prossimo video Vi ringrazio come sempre Per la visione Ciao a tutti Mamma mia Che pacchetto di merda Yeah